La Campania dopo 60 anni ripropone un grande prodotto che è l'arachide. Sì, certo, siamo molto contenti di rinnovare questo nostro supporto a questo progetto, un progetto in cui noi abbiamo creduto, il Dipartimento ha creduto, i nostri studiosi hanno creduto e si è innescato un processo assolutamente virtuoso, quello di riportare in Campania una produzione che era da anni, che non si faceva e quindi significa ancora una volta valorizzazione del territorio. Per noi è un risultato molto importante, è un risultato a cui hanno contribuito dei nostri studiosi entusiasti del progetto, a cui hanno contribuito dei nostri studenti, dei nostri dottorandi e quindi è stato un momento anche importante di formazione, di formazione in campo per i nostri studenti magistrali. I miei complimenti a chi vuole osare, ovviamente nel settore agroalimentare, a chi vuole osare per delle produzioni che vanno nell'ottica di valorizzazione del nostro territorio campano ma anche nell'ottica dello sviluppo di produzioni sostenibili come è il caso di quella di cui parliamo oggi. Abbiamo sempre creduto al prodotto italiano, abbiamo una linea che beve Italia e quindi mancava la rachide che rappresenta il core business della frutta secca e quindi abbiamo deciso di intraprendere questa sfida. Ma è una grossa sfida, una bella ambizione quella di poter recuperare una coltivazione che manca da questa regione da circa 50 anni, 60 anni. è stata sicuramente caratterizzata questa esperienza da un grande entusiasmo da parte dei produttori e anche tanta soddisfazione perché poi ci si è resi conto che il territorio e soprattutto le imprese hanno una grande predisposizione per questo tipo di coltivazione. Aver incontrato l'industria Caputo che ha una grande sensibilità su poter realizzare un prodotto 100% italiano per noi è un fatto importante, distintivo e soprattutto che ci mette le condizioni di poter ampliare questo progetto. E per dare valore al prodotto siamo partiti anche con un sistema tecnologico che ci ha consentito di tracciare il prodotto dal seme alla tavola garantendo con una tecnologia innovativa come quella del Blue Dev che garantisce il prodotto dall'origine partendo dal prodotto e non da una dichiarazione spontanea riusciamo a dare al consumatore un prodotto sicuro e di origine certa certificandolo con il passaporto del cibo, con il food passport quindi il consumatore avrà in dettaglio tutto il ciclo di vita del prodotto partendo dal seme e arrivando poi al prodotto che consumerà sulla tavola. Quindi questo ci consente chiaramente di dare fiducia e trasparenza a chi deciderà di consumare l'arachide.